ciao ragazzi da melix game e ben ritrovati su the sims 4 avventura nella giungla ricorderete che con valeriana siamo andate in vacanza con willy vedremo se riusciamo ad invitare anche alessio perché già mi avete chiesto ma alessio con cui aveva flirtato un attimino lo vogliamo lasciare da parte no ok la nostra valeriana l'abbiamo lasciata nel suo cottage oddio che è che schifo brutte robe allora cara la nostra cessetta con chi sta parlando con nessuno dai ricordiamo che valeriana è una ragazza abbastanza folle e willy è sempre depresso e siamo qua con valeriana vediamo se riusciamo ad invitare non riusciamo ad invitare alessio ragazzi invita a partecipare alla vacanza yes dove alessio manco c'è ci ha già mollati proviamo con marcus a cavolini dobbiamo anche metterci un altro depresso e va a letto ma non ho capito i nostri migliori amici vanno a letto scusa ma cos'hai stelluzza no no rallegra perché così triste oh sconsolato vediamo un po' oh oh wow grachad ah ah gorba badish tepsiturib wadisa a oh oh un'arpe, fisiquabe eh, gorba yumba naya floof oh luna chiara balansif spobin ha, loima brinta uh, noi ho, 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 shoumba smurg ospa turful peripanant kirasha yabasani yifka banzoi palanas pitfall vivange chiediamo se è single chiedi se è single oh sverpava listen to oh yadina ucaro lei è molto plurtante ragazzi però non ci ha detto se è single mi piacciono i cani sto vedendo qualcuno sto vedendo qualcuno fa niente noi flirtiamo luna ciao baby ciao baby ciao baby oh 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 Ah, ma bella, cosa è? Bencoya. Garul, Garul. Mi boi. Ho, ho, Zubo! Oh no! Tonka Thorri. Tuca? Oh! Larbin. Oh! Hanawanu. Galbador. Primo bacio, ragazzi. E lui se ne va. Cioè, avevo chiesto un primo bacio. Sarà mica tornato a letto, no? Senti. Primo bacio. Poi vediamo questo tavolo delle costruzioni enorme. Dove caspitella lo mettiamo? Poi vorrei chiesto, a Greiglia. E noi sicuro. E? 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 Va molto bene ragazzi Facciamo fichi fichi Con Valeriana La cessa Proprio non se l'è filata Questa domanda Facciamo fichi fichi Dai Che lui non è neanche male Sì Sì ci sta Ragazzi ci sta Il primo fichi fichi Della nostra verginella Valeriana Mooshka Gorbi, Gorba Hai Dupa Wagrin Ok Mettiamo il guinzaglio A Willy E cerchiamo di andare a scoprire Qualcos'altro Di questa giungla Perfetto Valeriana Io direi che tu potresti anche Cambiarti Facciamo che Si Sarai un po' sportiva E poi ce ne andiamo Alle 8.45 In cerca di qualcosa Eccoci qua E ora che non c'è nessuno Dove andiamo Andiamo qua Visita al bar Con 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 E mi piace di più Marcus Ragazzi Scusate Ma Onestamente Preferisco lui Ed eccoci qua Alla solita Taverna Non c'è un'anima Dovrebbe esserci il signore che vende Neanche quello Proviamo a ballare Balla insieme Niente Fa sempre Stifo a ballare Adesso arriva questa Ci fa Sfigurare Malamente Chiediamo di diventare fidanzati Sono diventati fidanzati Valeriana Valeriana è felicissima Dagli subito Un bacio Cosa Scusate ho cancellato un po' di notifiche no, 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 no no, 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 no no, no, no ma su c'è un altro piano informiamoci per bene ok, repellente ce l'abbiamo no, no, no no, 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 no andiamo a fare una passeggiata lunga willy sei stanco? dai andiamo bacio molto bene io volevo esplorare qualcosa di nuovo ragazzi grazie Ok Vai a fare la pipì Che cosa abbiamo raccattato Ragazzi Abbiamo raccattato Roccia fossile Estrai il fossile Ok E questo che è? Tu pazzi Perfetto Mangeremo E dormiremo Questo che è? Aaaaaah Che stai facendo Dovreste cucinare Stella No Sì No 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 eh sì Alessio non ti sei deciso prima e quindi abbiamo trovato un fidanzato del luogo aspetta Valeria aspetta niente è troppo stanca per mangiare e quindi ragazzi io direi di andare a comprare assolutamente provviste e di studiare il libro che abbiamo abbiamo comprato la scorsa volta archeologia volume 1 ecco qua il sentiero di Belumidia non puoi procedere prima torniamo un po' Grazie a tutti. Ui ui ui. Wow ragazzi. Allora, incontro con un capibara. Osserva e goditi lo spettacolo. Avvicinati con cautela. Avvicinati con cautela. Oddio, che succede? Oddio, che è successo? Ammierare le stelle, no? Non vogliamo ammierare le stelle. Non ci vuole andare più. Non ci vuole andare più. Allora, all'improvviso, i bradipi. Segui un altro percorso. Cammina con i bradipi. Segui un altro percorso. Ok. Oh mio Dio. Si è addormentata ragazzi. Valiariana è stanchissima. Ora che abbiamo trovato qualcosa di interessante, lei si è addormenta. La solita spigazzina. Senti, qui non ci possiamo andare. No. Perché? Dobbiamo fare il giro. Sì, lo so, è stanchissima. È stanchissima. Niente, è stanca morta ragazzi. E direi che la puntata si è prolungata sufficientemente. Abbiamo già visto qualcosa di nuovo. Dei passaggi dove Valeriana dovrà appunto barcare e cercare chissà che cosa. Nel frattempo Willy e il nostro nuovo boyfriend ragazzi con cui ci siamo fidanzati. Valeriana è fidanzata. Non ci possiamo credere. E con questo bellissimo spettacolo io vi saluto e vi invito a vedere la prossima puntata. Chissà come andrà. Ciao a tutti da Melix Games. Ciao a tutti.